Immensamente arido. I fratelli dello spazio, attraverso P, 19 marzo 2024, a cura di Gabriele Rossi e Lesien, cari sorelle e cari fratelli, Apprendiamo i messaggi che vi giungono dai nostri alleati, fratelli stellari. Soprattutto apprendiamo che in pochi comprendono il vero senso del nostro e del loro dire. Questo non è tempo di essere tracotanti. Questo è tempo di prendere atto del vostro ego immensamente arido. Avete un'opportunità. Accogliere la verità e farne vostro scudo. Il buio incombe. Chi osa cercare di deviare il percorso oramai segnato, perirà. Chi osa ancora trasmettere falsità perché è privo di umiltà, perirà. Chi non crede non passerà. Chi cova gelosie ed invidie su chi è la nostra voce, perirà. Chi non getta la maschera, non passerà. Sorelle e fratelli carissimi, siate quelli che siete e non quelli che sembrate. Siate pronti, siate aperti, siate colmi di bontà. Siate pronti a combattere con l'arma più potente, il perdono. Siate onesti e non sporcate la nostra voce con le vostre frustrazioni. Siate liberi nel cuore e forieri di pace. Siate homo faber più che sapiens in questo tempo di rinascita. Il numero zero è il numero di questa vostra epoca. Ma se zero significa nulla, ricordate che l'archè da cui tutto principia è proprio il nulla. Abbiate coraggio, gentilezza ed umiltà. Immergetevi in voi stessi e guardate il cielo. Il buio sarà squarciato dalla lama dell'amore assoluto, con infinita luce ed amore. Grazie a tutti.